Vuoi sapere quanto si paga di tasse qui alle Canarie e se si risparmia rispetto all'Italia? Probabilmente in questi ultimi mesi avrei sentito parlare tantissimo delle Canarie come un paradiso fiscale e come un luogo in cui tutti i nomadi digitali e freelance si stanno trasferendo. Anche io ho fatto questa scelta l'anno scorso e adesso voglio svelarti in questo video quelli che sono tutti i dettagli dopo aver avuto aperta una partita IVA in Italia e dopo aver trasferito tutto qui alle Canarie. Quindi lanciamoci in questo video, prima di iniziare voglio dirti chi sono io per parlarti di queste cose. Io sono Monica, copywriter e copywriting coach e da novembre 2021 vivo qui a Fuerteventura da dove aiuto le ragazze ad uscire dal proprio lavoro autonomo, monotono e iniziare una propria carriera come copywriter freelance che gli permette di monetizzare la propria passione per la scrittura. A fianco anche social media manager, digital strategies, coloro che vendono coaching e servizi di marketing nel rafforzare le proprie competenze di copywriting per ottenere migliori risultati per i propri clienti oppure per far decollare il proprio progetto personale. Prima di iniziare ti invito a mettere un like a questo video e iscriverti al canale per non perderti tutti gli altri video come questo. Ma adesso iniziamo subito perché questo è un argomento super super caldo e super super interessante. Allora, prima di tutto sfatiamo quelli che sono due grandissimi falsimiti in cui probabilmente anche tu crederai. Il primo è che le canarie non sono un paradiso fiscale, quindi non è che non si pagano tasse, ci sono dei regimi agevolati per aziende oppure per coloro che decidono di investire sul posto, principalmente nell'immobiliare ma stanno nascendo anche dei regimi relativi al digitale. Secondo falso mito, non puoi venire qui alle canarie solo per pagare meno tasse e soprattutto su una partita IVA. Questo perché venire qui alle canarie significa innanzitutto cambiare completamente il tuo stile di vita. Stai facendo una scelta di vita, quindi le tasse possono essere ovviamente un elemento che concorre alla tua decisione, ma non possono essere l'elemento preponderante. Se ti piace vivere in Italia dove stai e hai una casa che ti piace, hai una cerca di amicizie che ti soddisfa, probabilmente dovresti pensarci bene se lo stile di vita delle canarie non ti piace, se vieni qui soltanto per le tasse. Secondo motivo è che per essere residente fiscale alle canarie, come in qualsiasi altro stato estero, bisogna vivere in quel posto almeno sei mesi e un giorno all'anno, altrimenti per l'Italia sarai sempre residente fiscalmente nel tuo paese di origine e quindi ti potrà chiedere ovviamente il pagamento delle tasse. Quindi voglio fare questa premessa perché le tasse sono un tassellino, ma si inseriscono all'interno di un cambiamento di stile di vita e un cambiamento proprio di approcciare appunto anche il nostro lavoro. Adesso passiamo subito nel vivo di questo video e rispondiamo alla fatidica domanda. Per partite IVA e quindi per freelance quante tasse si pagano se decidi di trasferire tutto qui alle canarie e quindi trasferirti alle canarie. Allora, le tasse alle canarie seguono lo stesso regime di quello spagnolo, tranne per alcune piccole agevolazioni, che sono l'assenza dell'IVA principalmente delle fatture se commerci con l'estero, quindi se emetti fatture al di fuori della Spagna. Quindi se hai clienti italiani non dovrai emettere e inserire l'IVA sulle fatture, esattamente come si fa nel regime forfettario, però questo vale ovviamente per sempre. Qui alle canarie è un regime ordinario e vale anche per le aziende. Ora, a parte questa distinzione con il regime spagnolo, tutto il resto segue appunto il regime della penisola, della madrepatria spagnola. Le tasse per i freelance, per le partite IVA, che qui si chiamano autonomi, quindi non esiste la dicitura partita IVA, l'ho spiegato già in un altro video che ti linko qui sotto. Come aprire partita IVA alle canarie, ho spiegato questa distinzione tra autonomo e qual è il tuo numero di partita IVA spagnolo e quindi canario. Allora, le tasse alle canarie per i freelance e per le partite IVA si dividono in due parti. Si dividono in una parte fissa, che è la quota della Seguridad Social, che paghi mensilmente come accredito in conto e parte dai 70 euro per i primi sei mesi fino ad arrivare a 2,50 al mese per quando arrivi al regime, quindi dopo circa due anni. Sostanzialmente dopo due anni avrai una quota fissa di circa 3.000 euro l'anno della Seguridad Social come quota fissa delle tasse. Vieni accreditato direttamente in conto mese per mese, quindi non ci sono bollettini, non c'è nulla, non ci sono F24. L'altra quota invece è quella delle tasse vere e proprie che vengono pagate trimestralmente, quindi ogni tre mesi, e sono il 20% del tuo fatturato netto. Ciò significa fatturato totale, tutto ciò che guadagni in quei tre mesi, meno tutte le spese. Le spese possono essere bollette se lavori da casa, può essere parte dell'affitto anche se lavori da casa, può essere computer o qualsiasi tipologia di attrezzatura, possono essere viaggi, se fai viaggi per lavoro e tantissime altre spese che puoi giustificare come spese della tua attività. Quindi dovrai prendere tutto ciò che guadagni, toglierci le spese relative all'attività e moltiplicare e fare il 20%. Quello saranno la percentuale di tasse che pagherai all'interno del trimestre. Ovviamente la domanda che tutti si fanno è, a questo punto, conviene oppure no rispetto all'Italia? Premesso, come ho detto, che non devi giudicare, non devi trasferirci quelle canarie soltanto per le tasse, ovviamente ho fatto un conto per capire effettivamente quando e in che estensione conviene. Se in questo momento o prevedi di guadagnare meno di 20.000 euro l'anno, quindi hai un fatturato in Italia, meno di 20.000 euro l'anno, sostanzialmente i due regimi, il forfettario, parliamo del forfettario, e il regime ordinario spagnolo e canario, si equivalgono. Quindi andresti a pagare le stesse identiche tasse senza applicazione IVA alle fatture e senza ovviamente l'inserimento di marche da bollo. Ricordo anche questo, perché qui ovviamente il concetto di inserire la marca da bollo sulla fattura non esiste. Se invece hai un'attività che ti fa fatturare più di 20.000 euro all'anno, allora a questo punto le tasse cominceranno pian piano a diminuire, perché hai una quota fissa e quindi poi hai una quota variabile. La quota variabile poi ovviamente varia in base al fatturato, quindi man mano che il tuo fatturato crescerà, la quota fissa peserà sempre meno sulla parte variabile, quindi le tasse cominceranno ad essere inferiori rispetto al regime forfettario italiano. Questo ti ripeto in base a un conto matematico molto molto semplice che ho fatto. Ovviamente quello che devo sottolineare è che ho fatto questo calcolo considerando che tu per la tua partita IVA abbia zero spese, perché nel caso in cui tu abbia delle spese, ad esempio come nel mio caso dei tool di marketing che utilizzo, l'acquisto di attrezzature, come può essere questo microfono, come può essere il cellulare, eccetera, a quel punto dovrai fare il conto relativo alle tue spese. Quindi io ho considerato come fatturato totale il reddito imponibile, e quindi ho moltiplicato per 20% il fatturato totale. Ma se hai delle spese, probabilmente anche per fatturati sui 15-20 mila euro l'anno, potrebbe essere più basso potresti pagare meno tasse nel fatturare qui alle canarie rispetto a che fatturare dall'Italia. Ovviamente questi sono conti approssimativi e devi valutare caso per caso. Rispetto alla burocrazia, quello che ho sperimentato io personalmente è che conviene sempre. La burocrazia qui è molto, molto più snella e anche se io non sapessi parlare bene spagnolo riuscivo a capire come funzionava, riuscivo a farmi aiutare all'agenzia tributaria e dal commercialista. Quindi lato burocrazia, puoi stare tranquilla, che è molto, molto più snella. Ora voglio concludere questo video lasciandoti una domanda e lasciandoti una riflessione. Per tutti coloro che in questi mesi mi hanno chiesto le tasse alle canarie sono di meno o di più di quelle dell'Italia? Conviene o non conviene trasferirsi? Quello che io dico sempre, da come ho capito anche da questi conti, per fatturati bassi matematicamente non conviene, per fatturati più alti ovviamente conviene e per più alto o più basso intendiamo 15.000-20.000 euro di fatturato l'anno. La domanda che ti faccio adesso è vuoi giocare alto o vuoi giocare basso? A che cosa stai contando? Perché stai venendo qui? Vuoi davvero far decollare la tua attività e quindi superare i 15.000-20.000 euro di fatturato l'anno che sono un fatturato che ti permettono a stento di coprire le tue spese se vivi da sola e riesci a vivere in maniera abbastanza dignitosa se condividi le spese con qualcun altro? Oppure vuoi giocare alto e vuoi vivere in un ambiente che ti permetti appunto di crescere e di investire su te stessa e sulla tua attività? Io ti lascio con questa riflessione e anche con la riflessione del voler cambiare il tuo stile di vita Personalmente io sono qui da sei mesi buoni e ho aperto la mia partita IVA da sei mesi e sono super soddisfatta di questo cambiamento e anche se pagassi più tasse qui io resterei qui perché mi piace il regime mi piace come funziona riesco a capire bene come funziona e mi sono integrata nel luogo mi piace lo stile di vita e soprattutto è tutto molto molto semplice risparmiare tempo significa risparmiare denaro quindi non dimentichiamocelo questo io ti lascio e voglio sapere nei commenti cosa ne pensi di questa riflessione e scrivimi tutte le due domande ovviamente in base alla mia conoscenza potrò risponderti noi ci vediamo nel prossimo video hasta luego